Filippino Andrea, Master 40, Faenza Channel, Uoduno Sai chi sei? Mi fa attacca sei E' al 0,20 kg, 15, 15, timer, barra Io facevo il re X Una volta facevo il re X, dopo ho perso No, no, non mi fa Machinaется Dai ten B , 5, 5, 5 Ho! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.